Il nostro figlio è un gran problema Troveremo che ha ucciso Umberth, te lo prometto Chiederò un trasferimento Dove vorresti andare? Ovunque, andrò dove nessun altro vuole andare Non deve succedere mai più che colpisca una gente Lei è un altro membro dell'amministrazione Isolamento! Tu come stai? Non riesco a capirlo Beh, male Riusciremo a far luce anche su Umberth, mi da Riusciremo a far luce anche su Umberth, mi da